Pensi davvero che la banca è il posto più sicuro dove tenere i tuoi soldi? Cioè davvero stai pensando che il tuo stipendio che mese dopo mese fai accreditare in banca, i risparmi che fai sul tuo stipendio e che lasci maturare in banca, ad interessi che ormai sono prossimi praticamente allo zero e saranno sempre di meno con il passare del tempo, ma pensi davvero che la banca sia la struttura che garantisce e ti dà sicurezza sui tuoi risparmi? Bene, ti sbagli di grosso. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e oggi andiamo a parlare di un aspetto che da molti è ignorato e da altri è preso forse con superficialità. Ragazzi, la banca non è affatto il posto più sicuro dove tenere soldi. Ce lo insegna la storia e ce lo insegna anche il presente e sicuramente anche il futuro ci farà vedere che la banca non è affatto il posto più sicuro dove tenere i soldi. Perché sto dicendo questo? Allora, parto da delle riflessioni che stavo facendo tempo fa con alcuni corsisti partecipanti del mio corso riguardo a dove tenere i soldi risparmiati, quindi i propri risparmi e il proprio capitale. Perché come dico sempre ragazzi, sapete che questo è un canale in cui si parla di trading, faccio trading e insegno a fare trading per speculare sui mercati e per quindi aumentare i rendimenti dei propri investimenti. Ma come dico sempre, mai investire tutto il proprio, i propri risparmi sui mercati finanziari, sugli investimenti. No, una parte bisogna tenerli fermi per garanzia, per sicurezza, perché può succedere qualsiasi cosa nella vita. Quindi bisogna diversificare anche nel momento in cui si intende fare investimenti. Perciò ci sarà sempre una parte del nostro capitale che dovrà essere fermo, dovrete disporre per qualsiasi esigenza ed evenienza di liquidità. Ok? E quindi molti pensano, benissimo, la liquidità che ho la prendo e la metto in banca. Del resto me l'hanno insegnata a scuola, me l'hanno insegnato i miei nonni, me l'hanno insegnato i miei genitori. La banca è la struttura più sicura dove tenere i soldi. La banca ogni giorno quando vado con il mio banco, quando con la carta di credito faccio un acquisto, mi permette di spendere quei soldi e di prelevare quei soldi. Di cosa mi dovrei preoccupare? Beh, di molte cose. Prima fra tutti, ragazzi, la Banca Centrale Europea ha voluto, con un decreto legislativo che era partito il 180 e il 181 del 2015 e 2016, ha voluto uscire dal sistema di protezione del credito e attualmente non c'è più il framework o l'architettura cosiddetta bail-out, ma adesso ci siamo spostati sul bail-in. Che cosa vuol dire bail-out e bail-in? Probabilmente dovreste aver sentito parlare di bail-out con la crisi finanziaria del 2007-2008 negli Stati Uniti quando le banche più grandi d'America stavano lì per crollare, stavano per andare in banca rotta e che cosa è dovuto, chi è dovuto intervenire, che cosa hanno dovuto fare per salvare queste banche e l'intero sistema economico-finanziario degli Stati Uniti? È dovuto intervenire il governo e la Banca Centrale, la Federal Reserve, che hanno sovvenzionato queste banche. Da lì nasce il concetto delle banche too big to fail. Se non avete letto il libro, ragazzi, c'è un libro fantastico che si chiama appunto Too Big to Fail che spiega la crisi dei subprime, dei derivati e dell'immobiliare del 2008. C'è anche un film, il film non è dettagliato come il libro, quindi il mio consiglio come al solito è leggete il libro, è fantastico, è un bel mattone, quindi non è una lettura da fare in spiaggia, ma sicuramente una lettura che vale la pena fare. Quindi il bail-out era il sistema per cui le banche che stavano andando in banca rotta venivano sovvenzionate dal governo e dalla Federal Reserve. Venivano messi i soldi dentro, iniettata liquidità, per poterle salvare e salvare ovviamente tutti quanti i creditori perché poi il ricatto delle banche è questo. Se io fallisco e vado in banca rotta, poi i creditori, parliamo di se i soldi gli verranno ridati, in che forma, in che modo, con quali tempi, eccetera, allora intervengono governi e banche centrali. Ed effettivamente potremmo pensare che questo meccanismo è un meccanismo giusto. E' giusto che se, in realtà giusto poi è una parola veramente troppo generica, però, se una banca ha difficoltà e insofferenza, beh, allora chi deve intervenire è il governo e la banca centrale, che deve in qualche modo garantire i creditori che siamo noi. Se ci stiamo spostando, o meglio, la BCE ha detto che era arrivato il momento di uscire da questo meccanismo, da questa architettura, per cui passare da una forma di bailout a una forma di bail-in. Lo sapete che cosa vuol dire bail-in? Potete già probabilmente capirlo dalla parola out e in. Mentre il bailout era una sovvenzione che veniva esternamente, il bail-in è una sovvenzione che avviene internamente. E quindi, le sofferenze di una banca, per direttiva della Banca Centrale Europea, vengono prese, le sofferenze vengono coperte attraverso azionisti, detentori di obbligazioni e creditori. Ragazzi, azionisti della banca, quindi per esempio, se avete delle azioni della vostra banca o di altre banche, saranno i primi ad essere colpiti. Secondo, obbligazioni. Se avete delle obbligazioni, il secondo step per andare a prendere soldi, per cercare di recuperare la situazione di banca rotta o di sofferenza della banca, saranno attraverso i possessori di obbligazioni. Terzo, creditori. Tutti i conti sopra i 100.000 euro. Sapete che c'era, non so se lo sapete, ma c'era una direttiva praticamente mondiale che tutelava i conti sotto i 100.000 euro. Quindi quei conti erano assicurati. Sopra i 100.000 euro scattavano, diciamo, direttive diverse. Quindi, per i creditori che hanno liquidità in banca sopra i 100.000 euro, per loro, la banca può andare a prelevare fondi, non si capisce bene in che percentuale, non si capisce bene in che modalità, con quali tempi, può andare a prelevare fondi per sovvenzionarsi. Vi rendete conto dell'assurdità? Perché, ragazzi, di nuovo, voi quando stipulate il contratto con la banca e firmate tutto quel papier di fogli, pensate che la banca è semplicemente uno storage del vostro... cioè, quindi è un contenitore, come fosse un enorme cassaforte, ma in realtà quello che voi state sottoscrivendo è un prestito. Voi state facendo un borrowing, quindi state prestando soldi alla banca. Poi la banca quei soldi ve li ridà attraverso... dandovi la possibilità di fare prelievi, dandovi la possibilità di spenderli. Ma un altro pensiero errato è quello di credere che i vostri soldi sono fisicamente in banca. Non è affatto così. Se tutti quanti si presentassero un giorno allo sportello della banca per richiedere l'intera cifra depositata sul proprio conto, la banca non avrebbe soldi. E questo è successo nella storia tante, tante volte. È successo in Grecia qualche anno fa, ragazzi. Quindi, la banca non detiene tutta la liquidità che voi gli versate. Quindi, abbiamo detto, e questo è un altro aspetto su cui riflettere, però abbiamo detto che adesso la Banca Centrale Europea ha deciso di togliere la protezione sul credito. Per quanto mi riguarda è una cosa assurda, ma che rende ancora più insicuro il sistema bancario, che era già un sistema non sicuro e non tutelativo per quanto riguardava il creditore. Adesso lo è ancora di meno, perché anche se voi potreste pensare ma Marco io ho un conto più basso di 100.000 euro, quindi io sono protetto. No, perché adesso, con questo nuovo belin, anche i conti sotto i 100.000 euro sono a rischio. In che modo? La banca può bloccare il vostro credito, quindi vuol dire che non poter andare in banca ed estinguere il vostro credito e portarvelo a casa, perché magari in una situazione di crisi, quando si ha paura, che cosa fate? Andate in banca e cominciate a prendere soldi. La banca può bloccarvi quei soldi e può calcolare a sua discrezione la quantità di denaro che vi serve per sopravvivere e quella è la quantità che voi potete prelevare quotidianamente. Tra l'altro leggevo la direttiva che adesso vi farò vedere, ragazzi, perché come al solito non dovete fidarvi di me. Questo video, questo canale, è un canale informativo, quindi vi prego di... Io voglio solo sensibilizzarvi e farvi vedere alcuni aspetti che a volte la stampa, i mainstream media, non trattano come dovrebbero, trattano in maniera superficiale o ancora peggio, non ne parlano proprio. Quindi voglio solo sensibilizzarvi e darvi il trampolino per poi, però andate a verificare quello che sto dicendo, andate a fare i compiti a casa, andate a studiare, andate a studiare si tratta dei vostri soldi, dei vostri risparmi, dei risparmi di una vita e voi non sapete quanto sono in preoccupazione. Io, per esempio, per mia madre, che ha lavorato una vita e andate in pensione da pochissimo tempo, ha preso la liquidazione, tiene la liquidazione in banca, nonostante io cerchi di farle capire quanto è insicuro tenere tutta quella liquidità. Per lei nella sua testa non c'è cosa, non c'è struttura più sicura che la banca per tenere i propri capitali. Ma la banca è sicura, sì è vero, potrei investirli, magari potrei avere un reddito superiore, ma la banca è sicura, non è affatto così. A parte che i tassi di interesse stanno veramente sotto i piedi, sono prossimi allo zero, praticamente ci sono banche che a fine anno rispetto ai tassi di interesse a quello che vi chiedono, siete voi che pagate per avere il conto e non sono loro che pagano voi per avere quei soldi sul conto, questa è un'altra assurdità del sistema bancario. Però, torniamo indietro, a parte le preoccupazioni per i miei genitori. Quindi, anche per conti sotto i 100.000 euro possono bloccare e non darvi la possibilità di prelevare. Ora, detto questo, voi potreste dire, vabbè Marco, ma non è mai successo, potrebbe succedere, ma magari questa è solo una legge così precauzionale. Ragazzi, no, è successo nel passato. È successo in Grecia qualche tempo fa quando hanno bloccato i fondi e hanno preso fondi, le banche, dai correntisti che avevano somme di denaro alte. È successo a Cipro nel 2013. Andatevi a cercare su internet Cipro Haircut, l'hanno chiamata così, il taglio di capelli che hanno fatto a Cipro, dove sono andate a mettere le mani nelle tasche dei risparmiatori, e soprattutto quelli con i conti sopra i 100.000 euro e c'è gente che ha visto scomparire il 60% del proprio capitale. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? E torniamo ancora un po' più indietro. Torniamo in ideale, rimaniamo qui nel nostro paese dove voi pensate che queste cose non possono accadere. Il governo amato, qualcuno di voi se lo ricorda, quando fu costretto, purtroppo, dalla enorme speculazione in short che fu portata avanti proprio da George Soros, Soros, sì, il grande investitore, ne abbiamo parlato qui sul canale quando abbiamo parlato di criptovalute, che aprì posizioni short enorme sulla lira e ci mise in ginocchio, mise in ginocchio la nostra valuta e la nostra economia. Il governo amato non sapeva più che cosa fare, dove andare a risanare questa enorme problematica, che cosa ha fatto? Ha preso il 6% dai correntisti italiani. Ragazzi, è successo circa 26 anni fa, 25-26 anni fa, nel 92. Andatevelo a cercare anche questo, è storia. Queste cose accadono, accadono in continuazione e accadranno sempre. Quindi, basta pensare che la banca sia la struttura più sicura dove tenere i soldi. E quindi, che cosa potete fare voi? Che cosa possiamo fare, Marco? Ci stai dicendo che la banca non è sicura. Dove posso andare a tenere i miei soldi? Che cosa posso fare per proteggermi, proteggere me, proteggere il mio capitale, proteggere i miei risparmi? Ci sono modi? Certo che ci sono modi, ragazzi. Ma lo sapete su che cosa gioca il sistema bancario e il sistema finanziario in generale? Gioca sulla complessità. Fa credere alle persone che è estremamente complesso capire e studiare e trovare alternative al sistema bancario. Il sistema bancario è facile, andate in una banca, aprite il conto e ci mettete i soldi dentro e vi fanno accreditare il vostro stipendio. Semplicissimo. Quello è facile. Il resto è difficile. È una bugia, è una menzogna. L'hanno creata loro per farvelo credere. Per farvi credere che è complesso. Certo, richiede studio, richiede di andare a capire quali sono sistemi alternativi e sistemi alternativi che hanno convenienza, ma ci sono, esistono. E parliamo anche di questo un paio di minuti. Eccoci qui. Quali sono sistemi alternativi? Io li chiamo offline backup, cioè sistemi di tutela del vostro capitale, dei vostri risparmi, del vostro benessere. Gli americani lo chiamano wealth. Come si fa a tutelare il proprio capitale e uscire fuori dal sistema bancario? Perché ragazzi, voi potreste pensare ok, investo sui mercati azionari, investo sui ETF, investo sui CFD, investo sul Forex, faccio investimenti per crescere. E voi lo sapete bene quanto io faccio questi investimenti. Ma, attenzione ad una cosa, siete sempre dentro allo stesso sistema. è sempre il sistema bancario, quindi quella non è una forma di tutela, di garanzia, di assicurazione. Quella è solo una forma di investimento, altamente speculativo, che può darvi anche performance e redditi interessanti, ma non vi state garantendo e tutelando, perché quei soldi sempre da un conto bancario devono passare. E se poi il vostro conto bancario vi ci fa pagare le tasse sopra, si può prendere parte del credito, vi può bloccare il credito, siamo sempre sullo stesso problema. Quindi, con questo non voglio dirvi non investire soldi, non fate trading, no, assolutamente, sono il primo a farlo, ma come dico sempre, dovete sapere bene che quella non è una forma di garanzia del vostro capitale. Non siete al di fuori del meccanismo finanziario bancario, ok? E ecco perché dico sempre, una piccola percentuale del vostro capitale deve essere utilizzata per far trading ed investimenti, non una piccola, diciamo una parte del capitale, quanto deve essere, quanto voi vi sentite di poter rischiare, 20%, 30%, 40%, 50%, per esempio, per quanto mi riguarda il 50% è troppo, è assolutamente troppo, per quanto mi riguarda. Però, questa è una decisione estremamente personale, lo sapete che non do consigli finanziari, ma faccio solo informazione su questo canale. Perciò ragazzi, per tornare a noi, quali sono sistemi offline, sistemi che escono di garanzia, che vi permettono di uscire dal sistema bancario? Ve ne posso dire uno? Bitcoin, per esempio. Bitcoin, se voi non lo prendete come, diciamo, meccanismo di speculazione, di investimento speculativo, ma semplicemente come, per quello che è nato, e cioè decentralizzare una valuta digitale in questo caso, decentralizzare dal sistema bancario, Bitcoin è perfetto, ma non c'è solo Bitcoin, infatti non terrei tutto su Bitcoin, assolutamente, anche perché in questo momento della sua storia ancora ha molta volatilità, quindi potreste dover vedere ballare il vostro capitale da un meno 30%, poi ha un più 50%, poi un meno 80%, e nessuno vorrebbe vedere questo. Altre meccanismi, comprate metalli preziosi, oro e argento, ovviamente certificato, quello è un altro meccanismo. Alcuni di voi potrebbero dire gli immobili? Sì, nì, è vero fino a un certo punto, perché gli immobili possono, possono e vengono tassati dal governo, magari sull'immobile avete un mortgage, avete un mutuo, non mi veniva la parola, avete un mutuo, e il mutuo è gestito comunque dalla banca, quindi attenzione anche agli investimenti immobiliari, le assicurazioni, assicurazioni sulla vita, assicurazioni fondi pensionistici, svincolati dalla banca, quindi parliamo di altre entità, quelli sono altre forme per fare lo storing, quindi mantenere il vostro asset, parte del vostro capitale, al di fuori del sistema bancario. Ragazzi, i meccanismi ci sono, dovete solo studiarli e vederli. Il video è diventato piuttosto lungo, lo volevo mantenere come al solito intorno ai 10 minuti, e volevo parlarvi anche di come io, che cosa utilizzo io e come diversifico il mio capitale per garantirlo e avercelo al di fuori del sistema bancario. Facciamo così, se questo argomento vi interessa e l'unico modo per me per capirlo è mettetemi un like qui sotto, se questo video raggiunge almeno 1000 like, quindi so che l'argomento è estremamente interessante, vi farò vedere, condividerò con voi il mio sistema, come io tengo il capitale, innanzitutto vi dirò quanto capitale tengo in banca, liquidità in banca, perché alla fine un po' di liquidità in banca bisogna tenerla, per gli imprevisti veloci, ma non tengo i miei risparmi di medio-lungo termine, assolutamente no. Quindi, se volete imparare, se volete semplicemente sentirmi raccontare questo, quanto tengo in banca, non il numero, ma la percentuale, quanto tengo, e dove tengo invece gli altri risparmi al di fuori del sistema bancario, aspetto di raggiungere qua 1000 like, se l'argomento vi interessa, sono sicuro che li raggiungeremo molto molto presto. Ragazzi, aprite gli occhi, studiate, fate i compiti a casa, andate a vedere e verificare tutto quello che vi ho detto, tutto quello che vi ho detto, perché altrimenti potrebbero, potreste, non dovete credermi sulla parola. E come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate lasciandomi un commento qui sotto al video, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ragazzi, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!